e ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi dovremmo fare l'apertura delle figurine ora apre una figurina vediamo vedete voi che avete trovato guardate vediamo c'è lorenzo tonelli pepe reina eusebio di francesco carlos carbonero e la cittadella di sarebbe andiamo ad aprire il pacchetto guardate voi uno non è vinto poi altro 1 ecco qui a buone carte buone cose allora ragazzi il video è finito se vi è piaciuto mettete un bel mi piace e faremo altri video su cui